Ehi la ciurma, io sono Mezzetess e benvenuti in questo nuovo episodio di Shoppe Keep Ci siamo lasciati la scorsa volta con l'espansione qui, con l'utilizzo della fattoria, cioè della fattoria, delle piantagioni che però non hanno venduto proprio per niente E oggi avevamo una mezza intenzione di espandere il nostro negozio a quello che sono gli oggetti per guerrieri L'unica cosa è che per gli oggetti per guerrieri... Ah ma no, aspettate un attimo Forse stiamo sbagliando, cioè sto sbagliando tutto Questo è già il livello 1 perché il livello 0 è quello che abbiamo già Quindi questo attirerebbe gente di altro tipo Sì, fino ad ora abbiamo avuto solo guerrieri Quindi i maghi e i rog e i druidi Arrivano solo se sblocchiamo quella conoscenza Infatti i 120 sono quelli più avanzati Ah, allora mi sa che conviene differenziare Sbloccare per esempio i druidi, i druidi potrebbero essere interessati alle nostre piantine No? Può essere un'idea? Ci penso, intanto vado a vedere la taverna come è andata in questa scorsa giornata Abbiamo comprato un tavolo in più Beh, 285 gold che non è male diciamo Non è tantissimo ma È già qualcosina in più ecco Poi è un introito gratuito quello, non è che hai bisogno di sbatterti per farlo Eeeh Guardiamo anche i guadagni della giornata di ieri Allora Profitto è, beh, 2414 di più che non il giorno precedente O questo è totale No, non può essere totale No, del giorno Dei statistics, ok Sì abbiamo guadagnato il doppio in pratica Con quel Con quel troschino Con quella skill Non capisco come fare a utilizzare però la Lascia Cioè se io mi metto in qualcosa da combattimento Non ho l'ascia Però la mi indica Lascia, boh Lo scopriremo Non andiamo a piantare nulla Perché tanto non abbiamo venduto Oggi Eeeh Ah, no Eeeh Le skill non abbiamo messo Andiamo di druidi Vai Così dovrebbero arrivare anche dei druidi Eeeh Non so se possiamo già però Ordinare degli oggetti da druidi, eh Forse no No Quelli lì Questo li attira Lo step 1 probabilmente ci sblocca degli oggetti Sì Items 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 Questo vuol dire semplicemente che arrivano in qua Però differenziare non fa male Perché Eeeh I druidi potrebbero avere bisogno più di Eeeh Pozioni Di Piantine Vedremo un po' come sarà la giornata Questo è sempre un guerriero Brenda Superman the Warrior Vediamo qua cosa arriva Un altro guerriero Un altro guerriero Ok Oh oddio Non abbiamo riparato la roba Per fortuna c'è il segnalino sopra Che avvisa Guerriero Guerriero Beh intanto mettiamoci a riparare qualche cosa Vabbè Questo è stato Rovinato ben poco Perché si rovinano anche piazzare gli oggetti Allora Guerriero Questo diamo un guerriero Questo è un druido E ha comprato un fungo in effetti Che gli altri invece non volevano Buona cosa Allora potrei rendere più Proficue diciamo Con le nostre piantine Questo è un druido E ha comprato una pozione E una pietra Questo è un guerriero E ha comprato una pozione L'ordine non è ancora pronto Io sto esaurendo le pozioni Qua c'è un altro guerriero C'è un altro guerriero E c'è un altro guerriero Sono tantissimi guerrieri Beh anche perché Non abbiamo tantissima fornitura Per druidi Se magari comprassero anche un po' di spade Il guerriero Il druido Il guerriero Al druido Guarda va a comprare uno di questi Eeeh Ottimo E vorrebbe la pozione di mana Che invece non abbiamo ancora Ha comprato quella Erba verde là Ha comprato l'erba verde E una pozione No pozioni Stanno andando via Come il pane proprio Oh questa erba verde La sposto qua E ordino E ordino Eeeh Altre Pozioni Da averne i dodici Perché altrimenti qua Due, tre, quattro, cinque, sei Dei leather gloves Prevendimenti Eeeh Eeeh Una Ok vai Eh infatti ho comprato una pozione Ci avrei giurato Una pozione Eeeh Cos'ha comprato lui? Niente Gli stivali forse Eh Si Druido che va a comprare le piantine Mi sa che abbiamo fatto la scelta del secolo Eh Si E vorrebbe il sombrero la ma Purtroppo non abbiamo ancora il tier 1 di niente No Allora i guanti Va Qua Eeeh La pietra va qua E facciamo un altro ordine Va Pozioni stanno andando di nuovo anche oggi alla grande Le spade ancora non siamo arrivate cinque No Ce ne mancano ancora tre Non riusciamo a vendere nessuna spada Porca miseria Prendiamone una e proviamo ad offrirla alla gente in giro Tipo Allora Lei è un guerriero Eh no Voleva una pozione Cioè in tempo che siamo usciti e rientrati abbiamo venduto 8 pozioni Cioè incredibile Uh uno scudo gratis Grazie Ha detto se non li vendiamo non so che farmi Però Lo ottengo Comprate le spade Oddio Avevo due ordini Mi ero dimenticato di avere un ordine da ritirare Una spada Ne hanno comprata un'altra Sì hanno comprata Sì hanno comprato una spada Eh niente stivali già ce l'avevo Lo scudo ce l'ho Eh niente Sì 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 Wid Abbiamo venduto anche Wid Eeeh Eeeh Ci manca forse solo una spada a sto punto Sì esatto Solo una spada Dai chi si aggiudica l'ultima spada per farci diventare i più ricchi del secolo No non glielo torna Ci darebbe un po' di punti se non altro quella Niente Comprate sta spada dai Avete ancora mezza giornata per aggiudicarvi l'ultima spada Quella più bella del reame proprio avete presente? Quella della fiaba che era bellissima no? Eeeh Sotto il bosco Ehi Cos'è che ho comprato e non ho visto Non ho una spada di sicuro Ah una wild growth Però là che cosa ha preso? Ha dei guanti infatti Ha comprato un'armatura Nooo Ma già appena in tempo avevano appena finito l'ultimo paio di guanti Se li stanno mangiando oggi i guanti proprio Scudi e spade proprio No E' diminuita anche un po' la richiesta di pozioni Uno Due Uno Uno E' probabilmente per il discorso della moda del giorno che c'è là dietro Cioè qua dice che i guerrieri oggi compreranno Eeeh Swords of code Che però non abbiamo Uuuuh Sì Abbiamo completato la quest Hanno comprato una spada Allora cosa facciamo? Facciamo eeeh Di vendere cinque Cinque pozze va Che quelle Dovrebbero andare Magari riusciamo anche a vendere Prima di fine giornata E scudo ancora niente Allora Un due tre Eeeh Ne hanno comprato di spade Tutti in questo ultimo momento della giornata però Abbiamo fatto un po' di soldi Sì 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 Dai che tra pochi secondi è sera E' arrivata la sera E noi abbiamo ancora da vendere Delle pozioni Però magari riusciamo a salire di livello Quello potrebbe darci Dei buoni Punti Dai dai Cobrate Cobrate Pozioni rosse Una Eeeh Compre uno scudo Dai Niente Sono andati sui guanti Comunque i funghetti li abbiamo venduti tutti E l'erba Quasi tutti E l'erba quasi Cioè E l'erba invece tutta Oh pozioni Ne sono andate due Yes Ne mancano solo più tre Stiamo già esaurendo di nuovo i guanti Mi sono andati a vedere qualcuno che Fuggiva no? No E' un cocktail di questi Che tanto non compra nessuno C'è un ordine? Yes I guanti oggi sono andati Era grande Oggi è stata la giornata dei guanti Yes Saliti di livello Se mi copri anche la pozione rossa Guarda ti sposo Niente Invece Sarò costretto a Sopprimerti Sei suicidato pur di non sposarmi Cioè Mannaggia Lo potrei prendere come un insulto Ma Intanto l'ho già ammazzato quindi Troppo tardi C'ho sto scudo Che nessuno vuole comprare Se non è che vuoi uno scudo Per caso Yeah Voleva proprio uno scudo Ma mi sa che glielo ho venduto A prezzo più basso Mi è dato 46 E qua lo vendo per 50 E Ci ho rimesso Però almeno non ce l'ho più In mezzo ai piedi Però sta venendo a vedere Per uno scudo Avrebbe comprato Pagandolo 8 in più Allora credo che mi comprerò 3 funghi E 4 erbe Si 1 2 3 1 2 3 Vai Poi lì pianto stasera Alla chiusura del negozio Compra la pozione rossa No Niente Compra l'altra Sei un guerriero Si Ma Ho sentito solo adesso Che dice Shopping 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 C'è un ordine Ok Ma sono tutte le Piantine Che andiamo a No niente Si si buga Sta roba qua Premo F Tutte le volte che voglio Ma Non succede Ah no L'ordine Era quell'ordine Scemo La 2 1 Level close 1 2 3 1 1 2 Ehi T'ho visto Finiamo l'ordine Level boots Le ho messi Vai Potevi comprarla Sta pozione Non costa tanto Costa 12 Ok L'ordine È pronto Managgia Niente più guanti Ma davvero oggi Sono andati via Tantissimo i guanti Cioè ieri era il giorno Delle pozioni Oggi era il giorno Degli guanti Proprio Ho sbagliato Tutto insomma Della mia vita Perché oggi Che dove Cioè ieri Che dovevo Fare la missione Delle pozioni Ho preso l'altra E oggi Ho preso Quella delle pozioni Ma forse l'ho conclusa Quella delle pozioni Comunque Ah ok Fase di costruzione No Una Una Pozione Per una pozione Niente Eh Vabbè Aspettiamo che arrivi L'ordine qua Così la posizioniamo Quanti punti abbiamo 56 Non ci basta Per sbloccare Un'altra roba Però abbiamo Un po' Di soldi Potremmo comprare L'altro tavolo Alla taverna Allora Non ci sale Dentro Sta cosa Ok Adesso aspetto Che crescano Così poi Li mettiamo Nel raccoglitore Dai che ci siamo Yes Andiamo a mettere questi Andiamo a comprare Lo slot aggiuntivo Alla taverna E poi direi che Possiamo Salutarci Ok Vai con Allora Riceviamo 200 Cucuzzi Qua E Ottimo Direi che Per questo episodio Può essere tutto Noi abbiamo Quanti Punti 56 Quindi Potremmo mettere Questo Ma anche no Direi che Aspetterei Più che altro Di sbloccare I maghi E i Rog Per avere un po' Più di gente No Guardiamo solo Ultismissima cosa Lo giuro E abbiamo fatto Tantissimi soldi In più rispetto a ieri Sì 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 Ok Ok Cosa sta succedendo Non lo so più Comunque Io vi ringrazio Per la visione Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi se per caso Non è stato già fatto E lasciare un commentino Qui sotto Vi auguro una buona giornata Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti